Bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, qui è Olly, andiamo con il video Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Pietro Blok e oggi siamo in compagnia di Olly Ma siamo nel mio canale? No, siamo nel mio canale, guardati sotto e vedi, cosa c'è scritto? Oddio, no C'è scritto Pietro Blok eh? C'è scritto? Ecco, volevi dirti l'autorema Ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, la channel si chiama Prova a non ridere E per ogni volta che ridiamo, dovremmo non mangiarci, diciamo, sì, bere il succo del limone Che pazzo Eh sì, che verrà appunto tagliato in due, adesso da noi due Ma noi perdiamoci in chiacchiere e incominciamo No, 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 nonити Sto vedi tempo ti police No, no, non sembra Sto vedi tempo Oh, non serve Sto vedi tempo E' appena successo il mio dino, quel bambino sarà il mio idolo, ecco, ho perso, ho già iniziato a perdere, quindi Adesso abbiamo un riso tutte e due, quindi penitenza inizia adesso Che schifo Ma si sicura ancora di fare questa chat? Sì, continuiamo Mi ha messo la sgarrencia Ok, bye Ok, bye Sì, non mi ha messo, non mi ha messo, non mi ha messo, non mi ha messo la sgarrencia E' io 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 No però io sono riso però alla p Eeeh Però a me di noi deve stare qualcuno in svantaggio Svantaggio vabbè Ahahahah Arriverà il momento in cui saremo in svantaggio qualcuno dei due Ah Oh, trillig Oh, no 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 Oh, oh no è vero è mia nonna stavolta mi cacchio no, è stupido è stupido è vero, è vero hai fatto quella sul video è vero mi manda come rimasto aiuto come? ah ah al limone andiamo avanti fare avere l'anno con la ringhiera che schifo aspetta ci spuzzerò di limone non è vero non è vero non è vero non è vero ma non è vero questa mi metteva arida tre mila volte guarda non è vero mi metteva come su un'idea cioè è stato un impatto collaterale il bambino contro il cuscio ma al ritmo una cosa epic non è vero il che è vero è vero anche il cacchio ma non è vero non lo fai per favore rinio! come ne si fa vietire pensavo che cosa la facesse si è spaventata mi dispiace l'hanno fatto spaventare dai il limone sta per finire vero? ma l'avete visto? no vabbè raga qua finiremo con la cosa positiva è che il limone sta per finire guardate cioè questo è quando esprimi un ciarvaldo c'è un piattino sotto ti capisco la vuole soffrire chi ha avuto l'idea di fare questa ciotola? e va bene ragazzi se questo video vi è piaciuto perchè noi stiamo soffrendo mentre voi lì da quell'altra parte dello schermo ridete perchè mangiare un limone non è facile mi raccomando se il video vi è piaciuto raggiungiamo i 70 like oh Peppe saluta questo video in diretta ignorante ciao a tutti e che altro e che altro alberico sono un brutto ragazzo se raggiungiamo i 70 like nuova sfida voi commenterete qui sotto nei commenti guarda giù guarda giù già mi immagino quanti commenti ci saranno due speriamo pochi pochi ma buoni non credo ci saranno proprio di più speriamo passate dal canale di Olli e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao